Sì, con Andrea Giacchero, presidente di Spediporto, facciamo un bilancio 2023, prima di tutto, non proprio col sorriso direi. Non proprio col sorriso, è stato un anno difficile, un anno che ci ha visto affrontare diverse sfide e che presenta un 2024 che non sarà da meno, perché sarà sicuramente un anno complicato, in un periodo storico in cui Genova sarà coinvolta da molte opere e purtroppo dove stiamo vivendo una situazione geopolitica decisamente difficile, perché ci auguriamo che i conflitti in essere non si inaspriscano, perché a quel punto la situazione si complicerebbe non poco. Per quello che riguarda la nostra città stiamo andando avanti in modo come richiede una situazione di questo tipo. Tra le varie associazioni e le istituzioni stiamo collaborando in modo assolutamente importante per far sì che purtroppo i vari intoppi che abbiamo visto anche durante l'esecuzione delle varie opere vengano affrontati in modo adeguato. Comunque il 2024 non partirà in modo semplice, ci si attende ancora che i traffici... Sarà un anno complicato, senza ombra di dubbio, sarà un anno molto complicato, sta a noi saperlo affrontare come abbiamo sempre fatto a Milano ad oggi. E si lavorerà anche per il nuovo piano regolatore portuale a Genova? Prima si diceva che sarebbe stato approvato a giugno del 2024, forse si andrà avanti. Voi siete stati già uditi? No, non siamo stati ancora uditi ma si andrà avanti senza ombra di dubbio. Bene, grazie. Grazie anche a lei. La linea può tornare allo studio.